Dopo il terzo o quarto bicchiere di vino si può trovare un accordo su qualunque cosa, ma non so se alla fine oggi siano previsti incontri di questo tipo. Lei non ne avrà incontri? Beh, ho già incontrato Matteo qui in giro. Perché vi siete detti? Beh, viacchieriamo tutti i giorni, non ci dobbiamo vedere al Vini Italy. Cerchiamo di lavorare, continuiamo a lavorare per dare un governo agli italiani, ma che sia un governo il più possibile aderente a quello che gli italiani hanno votato lo scorso 4 marzo. L'unica cosa che noi non siamo disposti a fare è non ricordarci come hanno votato gli italiani, quindi secondo noi non si può prescindere da un governo che apre una guida di centrale.